Ciao ragazzi sono Chris e benvenuti nel mio canale. Oggi vi parlo di questo set di lime per officina che ho comprato al Lidl il 18 luglio 2022 a prezzo di 19,90. Vi faccio vedere subito com'è fatto così da farvi capire se è il caso di comprarlo o meno in base ai lavoretti che dovete fare. Avviciniamo la telecamera. Praticamente lo troviamo venduto così in questo astuccio dove troviamo questo pezzo di cartoncino con le caratteristiche. 7 di lime per officina e 17 pezzi per lavorare legno e metallo. Per lavorare legno e metallo in pratica custodia lime con manici ergonomici per lavorare comodamente e in sicurezza e ci sono 4 lime grandi e 12 lime piccoline più una spazzola per la pulizia. Allora l'astuccio ricorda gli astucci porta cd che si vedevano una ventina di anni fa. semi rigida quindi è tessuto tecnico con sicuramente all'interno cartoncino plastica e le lime disposte in questo modo. Ogni lima con doppio sistema di fissaggio l'elastico dalla parte alta e una piccola tasca dalla parte bassa per tenerla abbastanza stabili. Partiamo subito dalla spazzola, piccola spazzolina per la pulizia che ricorda per la forma dei denti le classiche spazzole che vengono utilizzate per spazzolare i cani. Ha questa dentatura molto morbida per fare piccoli lavoretti. Ed ecco le lime, 4 lime grandi e 12 lime piccoline. Le lime grandi sono tutte diverse, 4 modelli differenti, per le lime piccole invece sono ripetute, abbiamo solo 6 modelli, quindi doppia lima per modello. Le lime grandi misurano 20 cm per quanto riguarda solo la parte metallica, 31 totale, quelle piccole invece siamo 10, totale 15. Per quanto riguarda le lime abbiamo di classe o categoria 2, le lime vanno da 0 a 8, le 0 sono quelle più fini per finiture, quelle 8 sono più per sgrossare, quelle più aggressive. La numerazione identifica l'aggressività che ha la lima sul pezzo. Misure grande, tonda, semitonda, triangolare e piatta. Misure piccole, piatta, quadrata, con la parte finale a punta. Questa è una semitonda che può essere anche chiamata a coltello perché finisce a punta. Tonda, un'altra piatta a coltello e una triangolare. Ora le vediamo più da vicino. Quelle grandi sono molto simili al kit che veniva venduto di 7 lime e raspe, se non sbaglio a 12,99. La parte metallica è la stessa anche se è cambiato il produttore. Qui il produttore era con metal, mentre qui il produttore è Suki International. Ormai che abbiamo questa tonda in mano vi faccio vedere che hanno un'imbugnatura con un doppio materiale, nero, plastica, rossa, gomma. Molto grip, hanno cambiato leggermente la sagoma dell'imbugnatura, però diciamo è sempre un'imbugnatura tonda, che io preferisco rispetto alle impugnature piatte, così non abbiamo vincoli sulla posizione della nostra mano. Qui c'è ricavato una specie di esagono, ma penso che non ha nessuno scopo, è solo qualcosa di estetico. Il numero 2 che identifica su tutte le lime, qua, qua e qua, però qui non c'è scritto, perché forse è troppo piccolino per l'ingisione, l'aggressività che ha la tipologia di dentatura e come tipologia di dentatura, vedete, questa è quella tonda, questa è quella semitonda, da un lato è arrotondata e dall'altro lato è piatta, triangolare e questa è quella piatta. Quella piatta, oltre ad avere i dentini da un lato e dall'altro, ha una parte liscia laterale e una con i dentini. Questo perché se dobbiamo andare in un angolino e limare però solo uno dei due lati, possiamo decidere di utilizzare la parte piatta e farla aderire, diciamo, alla parte che non dobbiamo limare, alla parte del metallo che non dobbiamo limare. Vediamo quelle piccoline, piatta, molto piccola, anzi accendiamo la luce del telefono, vediamo se riusciamo a fare una visuale ancora più vicina. Anche qui ha un lato con i denti e un lato piatto. Queste piccoline, praticamente questo kit l'ho comprato solo per le lime piccoline, avendo già queste qua, che ho utilizzato parecchio e sono risultate veramente buone. Perché certe volte mi è capitato di dover ripristinare una filettatura che magari avevo rovinato con una pinza o per qualsiasi altro piccolo lavoretto, che può essere la rifinitura di qualche metallo, qualche angolino, qualche spazio molto ristretto. E queste piccole lime sicuramente mi torneranno utili in tante situazioni. Le ho desiderate in alcune lavorazioni e non avendole, ho perso tanto tempo per cercare di crearmi una lima con un coltello o un po' di foglio abrasivo. Queste sono sicuramente molto utili. Ricordiamoci che le lime hanno una flessibilità limitata per il tipo di trattamento del metallo, che è un acciaio legato, ferra carbonio, in diverse percentuali, e poi con un trattamento termico per rendere la lima molto dura, hanno pochissima flessibilità e quindi superato una certa forza si spaccano. Quindi cerchiamo di non utilizzarle per scopi diversi da quelli per cui sono costruiti. È vero che la lima quando va utilizzata viene utilizzata in avanti perché la dentatura toglie materiale solo spingendo la lima in avanti, ed è vero che noi dobbiamo tenerla da tutti e due i lati, sia dall'impugnatura che dalla punta, per tenerla aderente, ma la pressione che dobbiamo esercitare non è elevata. Anche perché questo tipo di lime, come vi dicevo all'inizio, sono per rifiniture, quindi lo scopo non è togliere tantissimo materiale, ma togliere quelle sbavature, quelle piccole imperfezioni che ci consentono poi, a fine lavoro, di avere il pezzo bello finito. Vediamo qualche esempio di lavoro. Allora, un esempio di lavorazione può essere, abbiamo tagliato questo tubo, parecchio imperfetto diciamo, e dobbiamo semplicemente levare le sbavature, magari abbiamo fatto il taglio preciso e non vogliamo utilizzare una smerigliatrice per evitare di andare troppo oltre. La lima in genere viene tenuta con una mano sull'impugnatura e la mano sinistra che la tiene leggermente spinta verso il basso, o così o così, dipende, in genere si tiene così per evitare di toccare il materiale che stiamo limando. Inclinata a circa 45 gradi rispetto alla morsa o all'asse diciamo del pezzo e l'azione di rimozione la esegue solo in avanti, infatti sentite la differenza di rumore quando vado indietro. Quindi è vero che io non lo alzo, ok? Però la pressione con le due mani la esercito solo quando vado avanti. Facciamo la parte interna. Allora qui non posso usare la semitonda perché è grande, anche se ci arriva, no, non la posso usare, quindi utilizzerò la tonda. Ruoto il pezzo. Ok. Vediamo se riesco a farvelo vedere perché purtroppo... Ok. Questo è un esempio di utilizzo. Veramente potrei fare milioni e milioni di esempi anche per la tipologia di lime da utilizzare, però non voglio fare un tutorial sull'utilizzo delle lime, magari lo farò successivamente. Volevo solo farvi vedere la qualità e la tipologia di lime inserita all'interno del kit. Quelle piccoline, ad esempio, se dobbiamo ripristinare una filettatura, per esempio guardate la parte finale qua. Ora l'esposizione è alta perché altrimenti non vediamo niente, che è rovinata perché è stata stretta all'interno di una pinza. E il dado non scorre bene, scorre parecchio male. Ora la metto così, tanto non devo fare molta pressione. O con quella triangolare, ma in questo caso, sì, anche con quella triangolare possiamo sistemarla. Sì, già la sta sistemando. Se non ce la facciamo con quella triangolare, perché magari dobbiamo prendere... Dobbiamo limare un bulloncino più piccolo. C'è questa semitonda, che è veramente molto sottile. Perfetto, ripristinata. Due passaggi. Allora, guardate, questa è la parte ripristinata. Questo è l'altro lato che ancora si deve fare. Guardate. Ragazzi, vi ho fatto vedere solo due esempi. Vi ripeto, non volevo fare un tutorial sull'utilizzo, ma farei vedere la qualità. Andiamo a fare le nostre conclusioni. Allora, ragazzi, in confezione c'è scritto legno e ferro. È vero, per quanto riguarda il legno, non sono lime per sgrossare. Quindi, se non abbiamo il pezzo molto vicino alla finitura, con queste si perde tanto tempo. Anche perché poi, vabbè, prendo queste che sono la stessa cosa. Se utilizziamo per il legno, gli spazi tra i dentini si riempiono subito. Dobbiamo sempre andare a pulire con una soffiata di compressore. Anche col metallo. Però, diciamo, io le vedo più come un utilizzo prevalentemente sul metallo. Ma vanno bene anche. Alluminio, qualsiasi tipo di lega, legno, plastica. Anche qualcosa di gomma. Quella gomma rigida si riesce a limare, si riesce a modellare. Il kit piccolino. La lima entra all'interno di tutti i settori. Sia meccanico, lavorazione del legno, chi fa modellismo. Soprattutto modellismo queste piccoline sono veramente utili. Le lime grandi hanno il foro per poterle appendere alla parete. Come ho fatto io nella mia parete attrezzata. Le lime piccoline non hanno il forellino. Peccato. Ah, vi devo dire l'ultima cosa. Che avevo fatto la prova prima. Riavvicino la telecamera. Che l'avevo dimenticato. Lo facciamo ora. Allora, ma niente, capite che incontra la parte metallica quando rotolerà verso il manico. Ok, quindi la parte del codolo immersa all'interno dell'impugnatura, che in genere nelle lime a punta, arriva più o meno fino a qua. Normale. Va bene ragazzi, in questo periodo fare i video in garage è veramente, guardate come sto studando. Se il video vi è piaciuto e vi è stato utile per capire come è fatto questo kit, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. E se volete un tutorial su come si utilizza la lima o la raspa per il legno, fatemelo sapere nei commenti. Non c'è tanto da sapere, ma ci sono quelle due o tre cose che vi aiutano a lavorare meglio e più velocemente. Ciao!